Una richiesta presentata al direttore generale dell'ASD, Rodolfo Rollo, per richiedere l'inserimento dei soggetti diversamente abili nel prossimo programma vaccinale anti-Covid. Questo annuncia Ernesto Mola, consigliere comunale di Civica al comune di Lecce. Nei giorni scorsi, infatti, secondo il consigliere di maggioranza, i centri di urni di accoglienza dei soggetti diversamente abili sono stati chiusi per l'insorgenza di casi Covid, che hanno portato al decesso anche di una giovane. La chiusura dei centri per disabili e per le famiglie è un grave disagio per la necessità che queste persone hanno di socializzare, di essere coinvolti in attività creative, di uscire dai limiti angusti della propria abitazione. Mola avrebbe ricevuto questa segnalazione da genitori di ragazzi diversamente abili, tanto da sentirsi in dovere, in qualità di rappresentante della cittadinanza leccese, di chiedere di includere i soggetti diversamente abili nel programma vaccinale per la fascia d'età dei soggetti al di sopra degli 80 anni, o comunque di rappresentare questa esigenza in sede regionale. Data la particolarità e la fragilità di queste persone, conclude il consigliere di Civica, che non sono nelle condizioni di rispettare le norme anti-Covid, mascherine e distanziamento, appare infatti necessario includerle a più presto nel programma vaccinale, al fine di proteggerle dall'attacco del virus e di consentire la riapertura dei centri di riabilitazione. Grazie a tutti.